Sì, oggi sono venuta per mangiare, per prendere qualcosa da mangiare. Sono disoccupata e normalmente quando non ce l'hai niente, vieni a mangiare. Per cosa si augura per domani che è Pasqua? Non lo so. Mi auguro che si sta bene in salute perché, come si dica, senza lavoro non si può vivere. Maria è in attesa del pasto, la cittadella della Carità di Avellino, dove di buon'ore è arrivato in Pullman da un paese dell'Interland. Intanto legge un libro di Wilbur Smith dal titolo Divisi dalla guerra, uniti dall'amore. La donna è rumena e rivela mi piace leggere così un parato la lingua italiana. Domani Pasqua per lei è solo un altro giorno, non sa dove sarà e cosa potrà mangiare. In fila con Maria ci sono tante altre persone indigenti, molte sono di Avellino, giovani e anziani che si sono ritrovati per strada dopo aver perso il posto di lavoro o vittime della crisi sociale e della pandemia. Ma è così tanti poveri alla mensa, rivela Antonio di Grezia, oltantenne ex perito di Mercogliano da anni impegnato tra i fornelli della cucina della Caritas per assicurare ai bisognosi un pranzo dignitoso. In questi giorni di Pasqua Antonio insieme agli altri volontari cucinerà per chi non sa cosa mettere a tavola, nemmeno nei giorni di festa. Facciamo il nostro meglio sia per la Pasqua sia per la Pasquetta. Vediamo la roba che alcuni hanno regalato dei ravioli e facciamo i ravioli con un zucchetto alla bolognese, con funchi anche e poi l'agnello con patate. Questo è il pranzo di domenicale della Pasqua. Quindi voi lavorerete qua in cucina anche in questi giorni di festa? Sì, sì, sì. E dobbiamo garantire i passi che vanno fuori. Sicuramente saranno una settantina, come tutte le altre domeniche. Passi che sono comunque in aumento, considerando i loro poveri. Sì, fino adesso sono sicuramente in aumento, perché prima lavoravamo in torno ai 60-60, adesso siamo arrivati oltre, la quattro, la domenica scorsa siamo arrivati quasi a 90, 88, ecco la precisione. In fila per un passo caldo ci sono tanti avellini, è sicuro? Sì, sicuramente. Sono più italiani che pure straniere. Questo come ho potuto constatare io, diciamo così, quando vengono qui, che sono più gli italiani che vengono a prendere i cestini che pure straniere. Solo la domenica forse c'è qualche straniero in più, ci sono le batante che sicuramente vengono a prendere qualche cestino. Tra l'altro lei da tanti anni si occupa della cucina e la mensa dei poveri e non si stanca mai. Cerchiamo di fare il nostro meglio, rispetto a uno come me che ha parecchi anni non è da poco fare il lavoro che faccio qui in mensa. Grazie.